Grazie 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 Grazie. 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 Cambio 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 Bene Spiesa sotto Bene Sì Uno Due Tre Cambio Sì Uno Due Grazie. No, poi... Ui! Si, si, vai! Bravo, bravo, bravo. Dai, dai, dai! Ok, gioco. Ok, gioco. Ok, gioco. Bravo Bruno. Buonissimo. Cambio. È quattro, Pier. Quattro manca. Uno, 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 uno. Provo. Ah, stop. Provo. Quello che volevo. Gioco così. Dai, Pier, dai. Quattro. È toccata. Due sui. Sei? Stop. Stop. No, no. Ok, ok. Fanno? Dai, Piero. Dai. Due quaranta due. Grazie. 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 Scusa. Scusa. C'è bene. Scusa. Non hai rato l'inizio e mi hai provato a questa stanza. Possiamo? Sì. Gioco. 5. No, la faccia. Sì. Sì, sì, sì. Scusa. 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 No, sì. Grazie. Grazie. Scusa. No, sì. Scutta. Scusa. Perfetto. Scusa. 30 secondi50. 15 1-0, 2-0, 1-0 più a? 1-0 più a? Gigi? 1? 1-2-2-1, 3-1-0 e 2-0. 1-0, 2-0, 2-0. 1-0, 2-0. 2-0, 2-0. Stavolta si è partito il coro bene. Cambio. Cambio. E' un po' di altro. Forse c'è già il trocciato. Ah, quello là. E' un po' di altro. Ok. E' un po' di altro. 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 Mi stiamo costruendo. ha fatto il giro del mondo con la parola grazie 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 bravo piano bravo piano un attimo ok cambio 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 calma per farti come mi guardate 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 ti devi stare segnalando la non 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 ha interrotto il gioco però Faccio Fallo? Faccio No, qui va bene Ho detto una cazzata Eh Ho detto una cazzata C'era nessuno riposizionato Beh Grazie 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 Con calma Con calma Vai Grazie 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 Grazie. Grazie. Cambio. Grazie. Dai, Pier, dai, tieni botta su. Dai. Force. Pallo. Ok. Parlo. Ok. Provo. Parlo. 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 Andiamo. Devo già una sopra di 2, giusto? Perciò. Dai, dai, dai Faltasti Ti odio È proprio la punta delle dita Se lo prendi un po' sbighiare bene Sei morto Sei morto È proprio la punta delle dita È proprio la punta delle dita È proprio la punta delle dita No, no, mi sembra che lo stesso metro Mi sembra che lo stesso metro Mi sembra che lo stesso metro sia uguale Grazie Vai Ma scusami No, no, no No, no, no Poi c'è la riprenda No, su voi Fai tranquilli 3-0 Giallo 3-2 Sì Cambio Grazie 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 Grazie. 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 Grazie moltissimo. Grazie. Ciao. Grazie. Fatto. Lo tolto? Ti dà? No, io ho la tua cosa facciato a destra. Sa, sa, sa. Sei? Sì. Play. Due minuti. Non fritto. Non fritto. Oké, lì. Grazie. Grazie. Non fritto. Preciso. Vì. Vì. Vì, sì. E' lì. Lì, lì. Oké, lì. Vì, lì. Vì. 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 bravo